molto potente guardate come si creano riccioli ciao a tutti bentornati sul mio canale bentornati in questo nuovo video è arrivato il momento oggi parliamo dei saturn ii come avete visto nell'unboxing mi sono arrivati due modelli oggi parliamo del modello più grande il titano black si chiama black ovviamente per la manicatura che è nera non certo per il per la lama che invece è una lama acciaio satinato prima di vedere le prove sul campo ovviamente parliamo della parte tecnica già alcuni di voi nell'unboxing mi hanno fatto delle domande di quesiti posto anche dei dubbi e quindi vediamo se possiamo risolverli tutti allora innanzitutto e possono somigliare a qualche lion steel perché oltre a essere prodotti dalla antile quindi con la loro caratteristica e maniera di lavorare c'è la mano di moletta il designer è moletta e moletta nonché pensato perché il suo nome è pensato alla l'epoca odierna ha un suo inconfondibile stile quindi la somiglianza ci può essere con alcuni modelli della serie lion steel ma questi sono fatti originalmente solo per la saturn ice e quindi hanno questa caratteristica forma solo loro sono originali andiamo a vedere appunto in questo caso il titano black la lunghezza complessiva è di 28 cm e mezzo 284 mm la lunghezza della lama è di 153 mm quindi 15 cm di lama che non sono pochi lo spessore è di 5,5 mm potrebbero essere tanti potrebbero essere ma non lo sono in quanto appunto la lama a questa bisellatura sabre quindi andiamo a finire e questo non rovina la capacità di taglio per cui per quando per quanto ci sia uno spessore di una certa dimensione al dorso abbiamo detto appunto 5,5 mm al momento dell'arrivo al filo siamo perfettamente pronti per il taglio c'è il filo è veramente acuto la finitura della lama è satinata come abbiamo detto potete vedere la scritta moletta da questa parte sempre se riesco a mettervela a fuoco mentre a questa parte il logo della saturn per gentile concessione della lion steel abbiamo anche la scritta lion steel e il nome dell'acciaio slape ner e facciamo un attimino di storia della saturn knife allora nasce dalla volontà di due amici orazio e luigi che essendo già amici essendo collaboratori e appassionati di tecnologia a tutti i livelli ma anche essendo appassionati di escursionismo quindi di bushcraft di outdoor e chi più ne ha più ne metta hanno deciso di mettersi insieme e creare un marchio nonché dei modelli di coltelli di alta qualità però per fare questo hanno voluto affidarsi a michele pensato nonché moletta e come design per avere il disegno di due coltelli originali funzionali dati dalla sua esperienza e alla lion steel per farseli costruire si sono rivolte alla lion steel perché hanno ritenuto che la qualità di produzione sia tra le top in italia se non la top questo è come è nata la saturn nice sia moletta che e poi la lion steel hanno concesso loro la possibilità di imprimere oltre al marchio della saturn nice come abbiamo visto anche sia moletta e designer che lion steel il produttore cosa che se voi notate anche su altri coltelli statunitensi prodotti dalla rai noti è già successa ad esempio vi faccio vedere questo di px gear la cui lama è sempre fatta dalla lion steel is lei pener e sotto potete trovare la scritta lion steel prodotto made in italy e proprio questa produzione ha fatto parte del successo di questo coltello per cui la lion steel è riconosciuta a livello internazionale come una delle delle case delle ditte italiane di maniago che produce con maggiore qualità allora hanno fatto la scelta perfetta questo lo vediamo nella prova e lo vediamo magari anche in una o due critiche che giustamente mi avete mosso di cui una mi sento di condividere o meglio mi sento di condividere in parte ma vediamo il perché allora innanzitutto una delle cose che giustamente già nell'unboxing avete visto è il fatto che il dorso il dorso della lama come anche il dorso del codolo tra le altre cose è un full tang che il cordolo continua per tutta la lama e abbiamo il codolo esposto in fondo da usare come cursore per battere per rompere le noci per fare quello che volete è lo stesso identico arrotondamento che vediamo su questo b35 della lion steel e che vediamo anche sul m4 ma nonché su tutti i coltelli della lion steel e molti a molti non piace questa cosa perché dicono che non si può usare l'acciarino e in effetti è vero l'acciarino col il bordo rotondo non si innesca ma è stato preferito fare il dorso rotondo per poterlo utilizzare anche senza guanti altrimenti sapete che nell'utilizzo avanzato quando noi appoggiamo il pollice può dare fastidio l'angolo a 90 gradi tanto poi per l'acciarino abbiamo il nostro innesco per chi vuole utilizzarlo oppure può utilizzarlo qua ecco questa è una delle piccole critiche che mi sento di fare questo lo vedete qua che non è neanche un finger cioè però aiuta moltissimo ad affilare la lama questo spazio dalla guardia avete visto il tallone dalla guardia all'inizio del tagliente però a questo punto se lo facevano leggermente più largo poteva diventare un finger cioè che aiutava nel taglio avanzato non che non si riesca a fare in questa maniera però poteva essere una cosina in più da poter fare nel complesso la lama si comporta veramente bene come andremo a vederne le prove il manico in questo caso è in g10 ed è compreso del foro per mettere il paracord che fare anche una dragona per chi lo volesse il coltello è ben bilanciato ed è ovviamente in acciaio sleipene lo sleipene molletta l'ha spiegato più di una volta so che molti si lamentano che è un po duro da affilare io in realtà non lo so se sia il mio modo di affilare eccetera non l'ho mai trovato così duro o meglio a filo più facilmente lo sleipene che non fa i d2 per essere sinceri perché voi si affilate per esempio un di due della wonder tactical per dirne una marca è più duretto di questo sleipene e sì che questo lei penna è temprato 60 h rc è un acciaio cosiddetto la moletta da lavoro per chi usa i coltelli ed è in effetti secondo me una scelta valida date vero che la stessa lion stile abbiamo visto la dpx gear la dpx year l'ha voluto per uno dei suoi coltelli di punta e di maggior successo la lion steel lo usa anche per i chiudibili e le sr 11 il cura hanno la lama in sleipene quindi a mio parere la scelta che può essere opinabile se se uno ha dei gusti diversi però per un tipo di coltellone del genere dove il shopping ovviamente anche batoning la faranno la padrona sicuramente è una scelta corretta uno dei punti che è stato contestato da da voi che mi seguite è il fatto che abbia invece che delle viti questi rivettini ma in realtà è qua che vi sbagliate infatti il manico si può smontare se vedete non sono dei rivetti ma abbiamo un'insenatura a brugola per cui noi possiamo svitare tranquillamente il nostro manico per fare la manutenzione come lo è per esempio nelle m4 della lion steel vedete qua la brugola è di un taglio diverso ma siamo a lo stesso discorso quindi non sono rivetti non vi preoccupate invece una una critica giustamente fatta osservata da voi è quella che abbiamo un bellissimo fodero fatto a mano ma è sempre destro non è ambi destro o ambi sinistro come si vuole cioè non lo si può portare e per i mancini ma è nasce per essere portato per i destri ha però una caratteristica di cui faccio pregio che quella che oltre che essere la possibilità di essere portato in cintura in verticale noi possiamo anche attaccarlo agli spallacci o a qualsiasi zaino molle o attacco molle basta sganciare questa questo bottone automatico e quindi noi siamo in grado poi di inserirlo in un attacco molle bravi per aver pensato questo una tiratina di orecchie speriamo nelle prossime edizioni che la saturn ice faccia dei foderi che possono andare bene anche per il porto per chi lavora con la mano sinistra per darvi un'idea delle dimensioni ve lo faccio vedere in paragone alla al tops bob ve lo faccio vedere in paragone al vesuvius della fox ve lo faccio vedere in paragone al links della wonder tattica che già di per sé è un bel coltellone e per ultimo ma non per ultimo ve lo faccio vedere in confronto a un easy 4 è un coltello impegnativo oltre che per i 28 centimetri di lunghezza per i 360 grammi di peso la sua funzionalità gli fa perdonare appunto dei piccoli difetti come il peso che non è un difetto in questo caso ma è un pregio visto che il peso aiuterà quando noi spingiamo per fare del shopping andiamo a provarlo eccoci qua in campagna a provare l'utilizzo nel taglio vediamo se riesco a farvelo vedere bene si fanno dei riccioli meravigliosi il taglio molto buono non sembra neanche da un coltello così grosso voi sapete che io non amo le lame eccessivamente grandi o sempre coltelli da 10 9 cm di lama però devo dire che non si può levargli niente guardate come si creano riccioli per il fuoco in maniera molto facile l'intaglio è molto profondo al di là di quello che può sembrare con una lama sabre praticamente flat una cosa che non mi aspettavo anche dopo l'uso mantiene una buona filatura vi faccio vedere un'altra cosa vedete la punta se io vado e per quello che qua il perfetto sarebbe stato avere un finger cioè ma comunque ripeto si usa tranquillamente bene e la guardia ci protegge le dita ma guardate come con la punta si può lavorare di fino ecco questa qua è una cosa che mi è piaciuta molto ripeto non amando le lame grandi vedere come posso lavorare di fino ma proprio guardate come la lama lavora guardate che lavoro di fino è una cosa che mi ha veramente stupito bravo da questo punto di vista promosso andiamo a vedere il shopping non delude neanche nel shopping c'è un però il manico così fatto sarebbe stato voluto un centimetro due più lungo per poter dare di colpi tenendo una posizione retrata però moletta ha pensato anche questo vedete questo incavo in fondo al manico ci permette di tenere salda la presa anche tenendo il manico dal codolo e quindi fare un shopping molto potente anche l'intaglio profondo aiutato dal tipo di lama proprio guardate come va veramente bene non c'è nessun problema in mente non si dica mangia al legno ecco questa era un'altra cosa che visto le dimensioni mi aspettavo un po meno mi aspettavo più una dotazione da battoni e da shopping e meno una dotazione da taglio invece sono sincero mi sta stupendo ovviamente non è un pucco non è uno scandi vero però come voi lo impugnate che voi lavorate alto lavorate in punta lui taglia come non ci fosse un domani quindi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.